Attenzione però Perché è arrivato il fondatore Del format Che ha cambiato YouTube Italia E ovviamente con lui Ciao Antio Buonasera 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 Al rosso di Twitch Che giustamente si veste di rosso Buonasera Tutto bene? Bene 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 Ci spieghi tutto questo bordello Che sta combinando No volevo Era il mio sogno rincontrare ZV Jackson Volevo farlo in maniera particolare Eh perché A me piace molto questo ragazzo Occhio Lei conosce come si chiama Speed Sì conosco È lo speed italiano È lo speed italiano Sì che quel cretino che dice Non conosco il Milan Le Audi Sì Quindi Quindi le sta dando del cretino No In maniera No 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 Porti rispetto Bravo Bravo Togliti la maschera Ma com'è che ti chiami di nome Realmente? È un segreto Ah non lo dici? No segreto Sono io Ma come il suffo Che birra Saggio è Non mi vedevo Ciao Di questo punto Oggi Sei felato Ciao Anima Ciao 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 Arrivano Vogliamo invitare questo Questo cretino A giocare con noi Questa Lei che squadra tifa Rosso Monza Monza Ma lei è di Monza proprio? Monza Monza Sì sono di Monza Sono di Monza E cosa è successo praticamente Alla partita della Play to give Ragazzi spiegatemi Che io non c'era Sono l'unico che non c'era Sul risultato Di 1 a 0 Per noi Con un gran gol di pata Che Ve lo sto Per andare a vedere No ma dai Secondo tempo Giusto Eccolo eccolo Aspetta che lo faccio vedere Al nono minuto del secondo Sono segnato Ma cosa c'era scritto La cosa c'era scritto Nel cartellone Là in fondo No lì è sempre quello No è una dedica A un signore Che Ah è vero Ecco il gol Direttamente dal rinvio Del portiere Guarda che gioco Che abbiamo Solo così Potevamo farlo C'è la fatta La spizzata Lo sono cortore No 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 La spizzata La spizzata La spizzata al difensore Ok quindi Fanno questo gol qua Fatto questo gol qua A un certo punto Sei io? No prima Giusto Ma l'hai ripresa L'hai ripresa L'invasione Z Quella anche durante Eh aspetta che non la trovo E dopo l'unaccio Ma un attimo Un attimo Fatemi capire una cosa No no Io ho già capito Allora Era concordata Questa cosa? Assolutamente no Allora Io ho dei messaggi Ho dei messaggi Compatti dove dicevo Vengo a vedere la partita E lui mi diceva Basta che non spolleri nulla Allora Io infatti avevo paura Che lui facesse la stream Ho detto Basta che non fa le stream Ah perché tu hai detto Se vieni live Mi bruci il contenuto Giustamente Gli hai detto Ma il mio contenuto Ma il mio contenuto Non era quello Ma io non lo sapevo E dove ti sei mosso Dovete giustificare Lei Signor Rosso Allora perché ha fatto Quel contenuto lì Se non l'ha fatto Per la live Perché Perché ZV Non mi rispondeva i messaggi Quindi l'unico modo Per farsi rispondere È andare in campo Abbiamo il momento Se volete Abbiamo il momento Ale Ale Lei ci crede Ale Io? Se credo a questa cosa? Eh Ma allora Dico sì Perché ho visto la reazione Anche in campo Erano tutti stupiti Cioè non tutti hanno capito Che effettivamente Faccio l'avvocato degli Amo Io posso testimoniare Ma no Ma Manfred Ma se tu guardi No no Ma guarda che tu Non ti sei accorgi ZV è cringiatissimo ZV è cringiatissimo Dice no Non ci credo Questo no c'era Ragazzi al primo tempo Al primo tempo Poi lui ha fatto le riprese Io che ero in panchina Stavo ancora in campo È venuto Simone Berlini Che era con lui E mi fa Manfred per favore Deve fare un video Lo fai entrare in campo E io l'ho cacciato No non puoi entrare Quindi era vero Un amico veramente Era una merda No no Perché So che poi Junior Kelly Il mister Dice Ma non c'è una squadra seria Soprattutto Junior Kelly Cazzo queste cose Allora ho detto Meglio Meglio Quindi era vero Posso testimoniare Che era vero Anche perché fosse stato falso Nel primo tempo Che ero in campo No Sì Sarebbe stato Content vero Cazzo Beh quindi Allora In quel momento Ve lo facciamo vedere Anche con l'aureo Prova Ad andare Al cross Che potrà ripetere Da questo calcio d'angolo Occhio la palla rimane lì Bravo Fabio Quando ci sono i calci d'angolo Ragazzi Oh cosa succede Cosa succede Qua con l'invasione di campo Di Spider-Man Al ventesimo minuto Che va a chiedermi la foto Guarda l'avversario che lo voglio In scelta Guarda l'avversario Guarda guarda questo Che cazzo fate Che cazzo fate Noi li facciamo Ma non è con noi Non è con noi Esatto Pezzi di merda Sì sì ci diceva Pezzi di merda Siete colpa vostra Che fate YouTube Eh ma perché loro dicono Comunque quella lì E gente famosa sui social Sono tutti insieme Fanno quel ragionamento lì Ma la panchina loro Mi ha minacciato tra l'altro Come l'ha minacciata? Sì sì Ma io posso dire una cosa Ti vedo preoccupatissimo Tra l'altro di questa cosa È andata Sconvolto Ti è andata a tradilusso Che hai fatto l'invasione In questa partita E non in quella scorsa È vero Quella scorsa Per essere rischiato seriamente Quella scorsa sì Ma infatti io volevo Io volevo Piccolo elettricione Io volevo rientrare dopo No Per fare cosa scusa Per chiarire un paio di cose No Il mio obiettivo era Mettermi a 90 Centro in mezzo al campo Cosa l'ha frenata Da quest'idea Le botte Le botte Un uomo che non sapeva Probabilmente Il più grande allonatore di calcio Di sempre Guarda il trucco Ah no il droghino Anche qualcosa Commissario Sono il più grande invasore Sono l'invasore Ciao Spider-Man Sono io Io sto aspettando Di entrare in play to give Beh mister Facciamolo intanto Per come siamo messi Domani sera vengo? Eh Beh dai Mi credo Spider-Man Mi credo Spider-Man Mi credo Spider-Man Mi credo Spider-Man Oh è fatta Il rosso Ufficialmente ingaggiato Nella play to give Signori Un sogno che si avvera Posso solo dire che Rosso mi scusi Che 7.40 ormai è un orario fictizio Cioè diciamo che 8.40 Sono mesi che Dai 7.40 È un orario in cui Arriva solo Fabio Questa è una spremuta D'arancia Ok ok Ma guardate che Non filtrata Ah ah Mister per favore Anche perché Arancia e fagioli Vorrei dire Rosso Lenca è il ruolo gioca Scusi Esatto Stavo per chiederlo io Un centrocampista sono Però posso fare anche Il terzino Ho fatto il terzino Ma che tipo di centrocampista sei Mister l'ho mutata Perché si muti e si smuti lei Perché c'è un po' di rumore di fondo Quando parla Prego prego mister Sono un giocatore molto Fantasioso e tecnico È a posto mio Perfetto per difensore centrale No 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 Ma allegri Perfetto Ma professa il bel gioco Ha fatto due corsi Un contropiede Mister ragazzi Vi faccio vedere il secondo Oh Andre Andre Prego Dica dica Pata No che il rosso Una settimana Mi ha scritto Perché poi c'è un po' di musica Non c'è problema Rivedete Prego Pata Mi ha scritto per una settimana intera Il rosso E mi dice Dove venire la parte Dal petto ghibit Poi mette la storia ZV Vede la storia e mi dice Oh no E se fa il content Allora io ho scritto al rosso Tu mi fatti Anch'io Perché poi mi sono gagato Cioè ZV mi fa Io non ci avevo pensato alla stream E ho detto no Fa la stream E spoiler a tutti Però ti dico una cosa Che secondo me Hai sbagliato questa cosa ZV Perché secondo me Paradossalmente Se lui faceva la live Comunque non è che avrebbe inquadrato Solo il campo E ti avrebbe portato Ancora più indotto Cioè secondo me C'è bisogno No perché poi no Non ha senso Perché se vedono il risultato Non guardano il video Ma guarda che quelli che guardano la partita Non credo che lo guardino Per il risultato Cioè No fidati Adesso non so Cioè ditemi voi No voglio Per la qualità del gioco Si Si No però Andre Vi faccio vedere Vi faccio vedere Il secondo gol Frutto di un'azione Studiatissima In allenamento Ovvero Lancio lungo a Patacchini Che prova a saltare tutti Questo è lo schema Ecco Riesce Anche stavolta Atterrato Calcio di rigore Calcio di rigore Comunque Mulo Mulo Faccio una domanda Manfre Si Su quel tapino lì Avrebbe fatto gol Eh non era in giornata Mulo Bisogna Cioè come spesso accade Però Però io lo difendo Tra l'altro Dopo il gol Ho risultato di fianco alla panchina Eccolo Eccolo No allora aspetta Aspetta Mulo Adesso dobbiamo raccontare No non ci siamo Mulo Scusate un secondo Scusate un secondo Ma Ale Tu che è la prima partita Che hai fatto È vero che ci sono Tanti insulti Proprio pesanti Non ti senti Condizionato Dalla presenza degli altri No no Allora in realtà L'ho visto più inamichevole Che domenica in partita Cioè C'era più tensione inamichevole Che domenica Quando sono entrato Secondo me Almeno Così mi è sembrato Però L'ultima amichevole era Play to give Contro play to give Sì Quindi La tensione c'era C'era più Era le stelle Era un derby Sì 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 Vabbè No comunque dopo Andre Se c'è Mulo Dobbiamo raccontare una cosa Perché c'è una cosa Che fa straridere Che c'entra anche il rosso Prego Vai dite dite Sono mutati loro Vai Mulo vai Racconta tu Mulo dai Questo è bellissimo Vai racconta Sono curioso Mulo Racconta te perché c'è casino Racconta te Vabbè allora Lui ti dà responsabilità Anche se io non c'entro niente Vai 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 Allora fine partita Sì Non so se avete visto Ma abbiamo fatto l'intervista E c'era un ragazzino Che Che comunque Si vede nel video Cioè non so come dirlo raga E vabbè Cosa ha fatto il rosso Al ragazzino No non ha fatto niente Spero Spero che non ha fatto nulla No non ha fatto niente E cosa è successo Mulo dammi una mano Mulo dammi una mano Nostro grande fan Nostro grande fan Cosa è successo No La devi raccontare Mulo Non riesco io Ma io lo so Io lo so La puoi dire lei per favore Che qua veramente c'è Io non lo so cosa è successo Non la sa Ma non lo sa Non lo sa il rosso Non lo sa La sappiamo io Anche ho paura di questa cosa Potete dire Si può dire Si può dire o no Perché sennò è peggio così Se a rischio non la diciamo No no a rischio A rischio Ma non l'hai letta te Io l'ho letta ma non la racconto No Io l'ho letta ma non l'ho capita bene Cioè ho capito un pezzo È un abbattuto Io l'ho capito No no Facciamo così No no Facciamo così Facciamo che nel dubbio sono i 59 La puntata l'abbiamo portata a casa Non rischiamo Ringraziamo tutti Andate nei commenti sotto il video Che vi mettiamo E capirete Perché io non so neanche Ma non Vivrei l'uguale Noi ci vediamo stasera Però ha un lieto fine Ha un lieto fine la storia No No Non affoghiamo le mani nella merda Vi chiedete in privato Allora io vi lascio il link Così vi andate Sì sì Se l'avete ancora fatto Vi andate a vedere Io non ne voglio sapere nulla Un saluto a tutti raga Grazie Arrosso Grazie Ale Grazie mille Grazie ragazzi Ciao Ciao Grazie a Jay Pata Porta Porto Ciao ragazzi Devo uscire Devo uscire Ma quindi lei che squadra tifa ha detto Praticamente Monza Aspetta Esco Scusate Ciao Ciao